Che cos'è un microservizio? Ciao, io sono Michele e oggi vediamo dal punto di vista delle architetture software che cosa sono i microservizi. Mi raccomando, se questo video ti insegnerà qualcosa, iscriviti al canale e metti mi piace così sarai notificato delle nuove uscite. Ma andiamo avanti. L'architettura microservizi si è diffusa velocissimamente da quando il cloud ha cominciato a fare da padrone. Questo perché le applicazioni cloud moderne devono essere veloci, resilienti e altamente scalabili, il che significa che devono adattarsi con rapidità al traffico che cambia velocemente. Immagina il picco che può avere un Amazon durante il Black Friday. Ecco, l'adozione di un'architettura microservizi facilita il raggiungimento di questi requisiti, ma non solo. Fare un'architettura a microservizi rende anche più economico gestire e derogare la piattaforma che stiamo costruendo. Questo perché ci dà la possibilità di aumentare solo ed esclusivamente le risorse dedicate a quello specifico componente. Invece che dedicare più server a un unico grande programma che magari è semplicemente stressato nelle funzionalità di ricerca prodotto, immaginiamo un e-commerce, ok? Posso dedicare più risorse solo a quella specifica funzionalità, lasciando le altre inalterate. E quindi devo comprare meno server e quindi ho meno costi. architetturare un software a microservizi significa che lo dividiamo e lo spacchiamo in tante piccole parti indipendenti. Non è che per esempio abbiamo un Amazon.exe o un Google.exe che gira nei server ed è tutto contenuto lì dentro, ma sono tutti i servizi che Google offre, pensando solo all'ammatore di ricerca, sono spaccati in centinaia e centinaia di piccoli pezzettini che ognuno fa un piccolo pezzo del grande lavoro. Ognuno di questi pezzettini ha un compito ben preciso e fa solo quello. Ogni microservizio implementa un dominio ben specifico, si dice end-to-end, di una funzionalità. E deve essere, attenzione, sviluppato e distribuito in modo indipendente dagli altri. In questo modo dei team dedicati non devono per forza coordinarsi con altri centinaia di developer per aspettare il momento giusto per fare un nuovo rilascio, ma possono distribuire in maniera indipendente quando sono pronti, con i loro bug fix o con le loro nuove funzionalità. Ogni microservizio, essendo così indipendente, può essere costruito con una tecnologia completamente diversa dal suo vicino. Da una parte possiamo avere un qualcosa scritto in .NET, da una parte in Java, da qualcos'altro in Go e così via. E questo vale anche per la persistenza del dato. Ogni microservizio è padrone dei suoi dati e decide come salvarli. E non abbiamo più il concetto di un unico gigantesco database che contiene tutti i dati di questo mondo, ma ogni microservizio ha solo i suoi. Quindi, rivediamo, i microservizi sono piccoli, indipendenti e loosely coupled, cioè non dipendono dagli altri in maniera molto forte, ma c'è solo un contratto che dicono come uno interagisce con l'altro, ma non ci interessa, a un microservizio non interessa come è costruito l'altro. Basta che faccia quello che promette di fare. Ogni microservizio dispone di una codebase separata, cioè è gestito e sviluppato con un codice sorgente indipendente dagli altri e da team indipendenti dagli altri. E i microservizi vengono distribuiti anche in modo indipendente. Un team può aggiornare un microservizio esistente senza doverlo ricompilare e ridistribuire in maniera autonoma. I microservizi hanno i loro dati, non dipendono dagli altri, comunicano tra loro utilizzando un contratto delle API ben definite. Infine, abbiamo la programmazione poliglotta, cioè ognuno può essere fatto con un set di strumenti, linguaggi indipendente dall'altro. Facciamo un altro disegno, dai che capiamo bene. Allora, l'applicazione 1 per esempio è fatta dal blu, arancione e giallo, l'applicazione 2 dal verde e rosso e il viola e li vado a installare su due server diversi. Ok? Allora, qui per esempio riesco ad aumentare solo i componenti gialli, ne ho bisogno di due perché magari era un componente particolarmente sottocarico e quindi senza dover duplicarli tutti, e così sarebbe stato in un approccio a monolite dove non avevo tanti separati, ma un unico grande che faceva tutte le funzionalità, così ho potuto solo aumentare la numerosità di quelli gialli senza dover duplicare tutto quanto. E allo stesso modo ho fatto con l'applicazione 2, dove il componente viola, di nuovo quello stressato, aveva bisogno di essere duplicato per assorbire tutto il traffico e qui ho potuto aumentare solo quello. Non è tutto oro quello che lucica, le architetture a microservizi hanno le loro complessità, sono difficili da gestire e bisogna sapere quello che si sta facendo. Le principali criticità sono la gestione della comunicazione tra queste varie parti dell'applicazione e questa comunicazione deve avvenire attraverso dei canali molto rapidi e invece in un'applicazione monolitica sarebbe tutto nella memoria della stessa applicazione. Inoltre mantenere i dati sincronizzati tra un microservizio e l'altro non è così banale. Immagina per esempio un microservizio che gestisce il carrello del tuo e-commerce preferito e un altro che gestisce l'anagrafica degli articoli. Se cambia la descrizione di un articolo, nella anagrafica articoli, nel tuo carrello è rimasta quella vecchia perché ogni microservizio ha i suoi dati e quindi aggiornare tipo queste cose è molto difficile. Per oggi è tutto, al prossimo video, ciao!